The point we have to start from is the realization that we are all conditioned, that we live in the The point we have to start from is the realization that we are all conditioned, that we live in the most conditioned society the world has ever known. Ecco vedi non riesco a masticarle bene, non riesco a pronunciarle bene, non riesco e magari come attore capita anche di dover andare a fare dei provini in lingua inglese quindi sono da preparare sicuramente. Ecco con questo problema uno si ritrova a sudare freddo per cercare di riuscire a sfangarla e a presentare un buon prodotto con se stesso. La puntata di oggi sarà proprio con La puntata di oggi è un altro Desmond, tu sei il self, in un altro universo. Ragazzi ciao a tutti eccoci qua questa è la nostra nuova ospite Manuela. Ciao a tutti. Lei oltre ad essere una brava attrice è anche anche un'insegnante di English acting cioè vi insegna a recitare bene in lingua inglese perché tra le varie cose l'ha anche studiato l'inglese proprio all'università e in più ha fatto anche le sue esperienze all'estero ma di tutto questo ce ne parlerà poi lei direttamente. Benvenuta. Grazie. Come stai? Molto bene. Molto bene io sto sudando perché è l'emozione, è l'emozione. Io poi non so neanche come vestirmi in questi giorni forse il maglione è un po' pesante. No no va benissimo. Insomma ragazzi vediamo un pochino cosa esce fuori oggi. Sono molto curioso anch'io e cominciamo a bomba. Quindi la prima domanda che facciamo sempre è come ti è nata questa, io la chiamo vocazione, ormai lo sapete, questa passione, questo mestiere. Allora è nata a 12 anni, stavo guardando Il silenzio degli innocenti con mia mamma che non è proprio un classico film da 12 anni però mi piaceva moltissimo e a un certo punto ho visto questi primi piani di Anthony Hopkins e Jory Foster e ho pensato, ed erano super magnetici, ho pensato che figata. Io voglio imparare a fare quella cosa lì. Io poi ho conosciuto gente che a 12 anni aveva la gente, cioè per noi era proprio un mondo altro. E quindi mi sono iscritta a questa scuola di teatro per bambini, ma così solo un po' per aprirmi, per, come diciamo noi appunto, per desbellinarmi un po', si dice a Genova. Desbellinare vuol dire sciogliersi, aprirsi, così. E quindi mi sono iscritta a questa scuola e mi sono divertita tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, per cui dopo poco ho detto mamma voglio fare l'attrice. E questo si è già verso 13-14 anni. E quindi mamma e papà l'hanno accettato senza problemi. E mamma e papà, devo dire che loro mi hanno sempre molto incoraggiato, loro hanno sempre voluto che facessi anche gli studi accademici, infatti poi comunque l'università, ho fatto tutto il mio percorso, però lì per lì l'hanno incoraggiata come scelta. Ok, è una cosa che ho scoperto, che insomma, lei è una gran secchiona, ecco. Io sono molto secchiona. Ho capito questo, è una gran secchiona. Però ero una secchiona buona, cioè era una secchiona che faceva copiare, non ero la secchiona che si teneva i compiti. No, no, all'interno studiavo, studiavo, mi applicavo, ero molto diligente, però poi davo una mano, facevo copiare, insomma, sì, sì. Quindi praticamente hai iniziato da ragazzina? Sì. Va bene, ok, perfetto. E lì ti è presa, hai visto quanto è bello, i tuoi che hanno sostenuto? Sì, ho fatto qualche anno questa scuola, questa scuola, però una scuola, diciamo, appunto, non professionale, ecco, insomma, per ragazzini. E poi da lì? Da lì poi ho avuto questo, uno dei miei migliori amici all'epoca che faceva teatro, faceva musical col padre, ho cominciato, e sono entrata in compagnia con loro. In realtà all'inizio avevo un ruolo molto piccolino in questo spettacolo che stavano facendo, e l'attore che avrebbe dovuto fare una parte non veniva mai alle prove. E quindi il papà del mio amico mi disse, ma vuoi provare a... Io leggevo le battute per questo ragazzo che non si presentava mai, e un giorno mi diceva, ma senti, ma lo vuoi fare tu? Ed era una parte in realtà scritta per un uomo. Maschile la parte. Sì, era la parte di un medico. E io ho detto, certo. E quindi in realtà la mia prima parte, la parte da uomo, la prima parte che abbia mai fatto, è una parte da uomo. Hai fatto il maschio? Ho fatto il maschio, era il medicino Simone, medico Simone in Alleluia Brava Gente. Sì, sì, mi sono divertita tantissimo. L'ho esordita da maschio. Quindi praticamente tu hai fatto anche il musical, quindi sai anche cantare? Sì, ora. Sì. Sì, sa cantare. No, sì. Poi negli anni, sì, 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 all'epoca sì, facevo, avevo diciamo, di cantato avevo una parte molto piccola. Poi negli anni, visto che è una cosa che mi piace molto, ho preso anche lezioni di canto, ho conosciuto un'insegnante pazzesca che si chiama Mary Setrachian. Poi l'ho conosciuta a Roma qua negli anni, per cui poi l'ho anche studiato. Quindi hai fatto scuola. Poi musical? Musical, nel frattempo facevo un liceo, poi a 17 anni sono andata a vivere negli Stati Uniti da sola. Cioè ho fatto uno di quei programmi di scambio studio all'estero, per cui ho fatto la quarta liceo negli Stati Uniti. Wow. Mi piaceva proprio, mi piaceva un sacco quella realtà americana, così mi sognavo di andare negli Stati Uniti. Che figata! E quindi avevo già i figli di amici dei miei genitori che erano andati negli Stati Uniti a fare questo programma all'estero e io ho detto parto. E quindi a 17 anni sono andata dall'altra parte del mondo con un inglese molto scolastico, quindi un po' così. Infatti non capivo niente all'inizio. Però lì ero l'unica italiana, quindi o impari o muori. E sei andata anche a Los Angeles? Cos'hai vista a Los Angeles? Guarda, sono stata molto fortunata in realtà, perché io sarei, questo è stato uno di quei casi nella vita un po' particolari, io ero stata destinata a una famiglia completamente diversa, una famiglia oltretutto di militari all'interno di una base militare. Questi sono praticamente viaggi che vengono organizzati un anno prima della partenza e ti assegnano a varie famiglie. Io dovevo andare in questa famiglia qua, che però era molto fredda, mi scriveva un'email super fredda all'interno di una base militare, avrei vissuto lì, fatto la scuola lì. Io all'epoca ero un po' hippie, cappello molto lungo, Bob Dylan, Bob Marley, cioè ero un po' spaventata da questa cosa. Cinque giorni prima di partire, quindi niente, mi arriva un'email da una tale Lorna che mi dice guarda la tua famiglia precedente non ti può più ospitare perché è stata mandata in missione in Arabia Saudita, viene a stare da noi. E mi scrive questa email bellissima, caldissima, in cui mi descrive la propria famiglia e praticamente il padre di questa famiglia era uno scrittore teatrale. La figlia grande viveva a Los Angeles, lavorava come all'epoca assistente personale di Charlize Theron e poi dopo sono diventate coproduttrici e quindi ho detto vai, figata, parto. Quindi poi quando sono andata lì, per il mio regalo di compleanno, la figlia grande che aveva 30 anni mi ha portato sul set, all'epoca Charlize stava recitando in Sweet November, che era un film con Keanu Reeves, quindi sono andata sul set, ho conosciuto lei, ho conosciuto Keanu Reeves, ho fatto una figura di merda con Keanu Reeves, perché io ero nel camerino, nel trailer con appunto Charlize, le mie due sorelle americane, diciamo, e il fidanzato di una delle due. In quel momento Charlize Theron era uscita dal trailer per portare a spasso i cani, perché le avessero i cani, e io ero seduta dove prima era seduta lei. Quindi a un certo punto nel camerino entra come un fulmine Keanu Reeves, guarda nella direzione in cui pensava di trovare Charlize Theron e dice, dobbiamo ripassare le battute, tipo così, dobbiamo ripassare le battute. Io rimango tipo, così, ebete, un ebete. E il fidanzato di una delle due, che chiaramente non era impressionato dalla cosa, dice, guarda, Charlize non c'è, ma se vuoi viene mano a ripassare con te. Io rimango sempre, e Keanu Reeves, che invece era uno molto serio, molto concentrato e tutto, accenno un mezzo sorriso, chiudo la porta e va via. Ah, pensavo di avessi dato l'opportunità di... No, non ho neanche mai avuto l'opportunità di dire poi una frase intelligente, dopo per recuperare. E come mai non sei rimasta lì? Allora, quando ero lì, ho pensato, basta, io sono arrivata, sono qua. Mi ricordo questa volta, lì in California molte case hanno la piscina, una cosa abbastanza abituale. Io ero lì, ho sentito a bordo piscina, col mio copione del mio spettacolo del liceo, quindi erova molto piccola, il mio succo di frutta, penso, ah, sono arrivata, ho fatto le occhiali da sole. E però, cioè, avevo un visto da studentessa, quindi comunque un visto a scadenza. Poi io dovevo fare ancora la quinta liceo, perché io ho fatto la quarta lì, con tutti i miei compagni, che lì si diplomavano, perché lì il liceo dura quattro anni. E invece io sono dovuta tornare in Italia, farla quinta liceo e tornare alla vita. E non è mai venuta l'idea di tornare lì? Di tornare? Cioè io ho il sogno proprio. Eh sì, guarda, in realtà sì, però poi per come invece è andata la vita no, perché poi in realtà poco dopo, un anno dopo, sono stata presa per uno spettacolo, invece professionale, ma con una regista di quelle, sì, cioè nel senso di quelle che volevano usare, sfruttare i traumi infantili, prendere l'esperienza più cupa, vissuta, eh, per condividerla con tutti. Cioè andava a toccare delle corde molto delicate, senza avere i mezzi per poterlo fare. Per cui probabilmente era una di quelle persone che non ha capito il metodo, e quindi cercava di fare una cosa che non sapeva fare, in compenso io avevo 19 anni e mi ha traumatizzato questa cosa. Quindi in realtà io a 19 anni ho detto mai più. E quindi poi mi sono fatta, nella mia università ho studiato lingue e non ho più toccato la recitazione per altri quattro anni. Quindi poi sono diventata grande, diciamo. Ah, qui facciamo un piccolo inciso, ragazzi. Quando si studia la recitazione, è fondamentale sapere da chi si sta andando. Certo. Due, chi va su cose profonde, come insegnante anche, per come la vedo io, io pure lì sono sempre stata abbastanza reticente, ecco lì secondo me bisogna accendere un attimino la campanella e dire ok, è necessario per, secondo me la risposta spesso è volentieri che no. Ma poi sai cosa, un conto anche l'età che hai tu, oltretutto, perché se io questa persona l'avessi vista a 25-30 anni, avrei avuto magari dei mezzi per difendermi e dire grazie, non fa per me. A 19 anni invece, un po' perché comunque c'è anche un po' il discorso dell'autorità, un po', mi sono aperta tanto, resa molto vulnerabile, ma non avevo poi gli strumenti, lei non aveva gli strumenti per gestire queste cose, e io non avevo gli strumenti per gestire questa vulnerabilità. E quindi ho fatto, mi sono chiusa a riccio, e ho detto basta, mai più, chi me lo fa fare, non me l'ha prescritto il dottore. E quindi ho cambiato completamente direzione. Avevo voluto seppellire quella cosa per paura, ma invece mi piaceva molto. Quindi era nata un po' così. E quindi poi da lì sono partita per fare fotografie a Milano, con questo grosso dubbio, e finita l'accademia, ho avuto un momento in cui ho detto, ma io dove sono? Chi sono? Che cosa voglio? Che voglio? Un po' di sbando, poi negli anni piano piano. Ormai lo sai. Si è chiarito. Ma guarda! O la risposta l'hai trovata? Allora, guarda che la risposta al chi sono non è facile, perché poi va a momenti, ci sono momenti in cui ce l'hai chiara, o momenti in cui invece dici aspetta un attimo. Poi adesso sono anche mamma, quindi si è aggiunta una nuova identità, che è un'identità meravigliosa, ma totalizzante. E quindi c'è anche quello, per cui in realtà forse non è una risposta semplice. Di sicuro ti posso dire che la cosa che mi piace di più al mondo in assoluto è recitare. Qual è il lavoro che tu hai fatto che più ti è piaciuto? Urca. Ok. Lavori preferiti. Allora, io ne ho almeno un paio. Cioè, ne ho, ne ho, ne ho, posso dirne tre? Ne ho tre. No, troppi? Sono troppi? Velocissima. Sintesi. Non è, non è, io sono logorroicissima. Allora, va bene. No, no, dimmene tutte e tre. Assolutamente. Allora, no. Perché sono per ragioni diverse. Brava. Me lo vai pure a motivare, a argomentare. Argomento. Assolutamente. Argomento. Allora, il primo, che anche in ordine cronologico, guarda che precisione, è La Luna su Torino, di Davide Ferrario, che è stato il mio primo film da protagonista. Fatto nel 2012, lontano 2012, ed è stata un'esperienza stupenda, perché Davide è una persona meravigliosa, e perché tutti, cast, troupe, cioè è stato bellissimo. Quante duravano? Come riprese? Cinque settimane. Abbiamo fatto, siamo, eravamo un film indipendente, quindi abbiamo condensato tutto. È stata veramente un'esperienza stupenda. Ah, perché era la mia prima, un po' importante da protagonista, e poi proprio per le persone con cui ho lavorato, è stato bellissimo. Poi siamo andati al Festival di Roma, ho fatto il Red Carpet, quindi c'è anche quella parte lì un po'. Un po'. Ah, perché questo è un altro aspetto interessante, che sei dove non ne parliamo. Sì, lo so, perché tutti dicono... Ma c'è anche la parte... Sì, perché non sta bene dire. Invece io mi sono proprio divertita, mi sono proprio divertita, anzi, mi ricordo, dopo aver fatto quest'uscita un po' da pippo, dalla macchina, perché quando, cioè, la macchina ti accompagna sul Red Carpet, no? Io... Ti aprono la portiera, però io non sapevo, cioè, non avendo mai fatto prima, non sapevo che già dall'uscita, esatto. Per cui io sono uscita dalla macchina, ho visto i miei amici dall'altra parte che stavano lì fuori in Red, ho cominciato tipo a sbracciarmi, a salutare tutti. E tutti a scappare. E poi tipo, non mi ricordassi la mia, la protagonista, Daria, che mi fa Manu, guarda che ci sono i fotografi di là. E mi fa... Ok. E c'è stata l'uscita un po' pippo, tra l'altro non so neanche bene come sono uscita, però poi ho fatto il Red innanzitutto senza inciampare, che già sul tacco 15 non è. Cosa da Peruna che normalmente sta in converse, non era cosa da poco. Ma poi quando sei lì, di fronte in fotografia, ho avuto proprio il momento tipo, ah, grazie. Mi sono divertita molto. Ma a parte quello, no, il film è stato molto divertente. L'altra esperienza invece molto bella, che mi è piaciuto moltissimo fare, è un cortometraggio per Vanity Fair, prodotto da... Vivo! Sì, Vanity Fair e Tender Capital. E poi invece un'altra cosa, un altro film completamente diverso, super indipendente, che si chiama Malerba, che è un thriller psicologico, che è uscito due anni fa, 2018. E quello sia di nuovo, perché innanzitutto ho recitato con uno dei miei migliori amici. E poi... quindi mi sono trovata molto bene con lui, molto bene con l'altro attore, che è un grande amico anche lui, molto bene con il regista. Avevo, se non ha... Da un lato avevo più libertà, perché avendo meno paletti, avevo più libertà. Dall'altro però, poteva essere anche un po' più spaventoso, no? Perché comunque, devi poi dargli 360 gradi. Certo. Ti hai scritto qualcosa di tuo anche, a proposito? Allora, io ho iniziato a scrivere qualcosa di mio, anni fa, e l'ho lasciato un po' lì, nel cassetto. Adesso lo sto riprendendo, lo sto riprendendo in mano. Con la scrittura è strano, perché non mi ritengo scrittrice, cioè credo di avere altre capacità, a livello artistico, altre cose, per cui appunto faccio la fotografia, mi occupo di fotografia. Sulla scrittura, sempre un grande timore reverenziale, cioè ho sempre un po' l'idea di non avere abbastanza mezzi per farlo da sola, non essere abbastanza brava, non lo so. Però ci sono degli argomenti che mi interessano moltissimo, che mi interessa moltissimo, di cui mi interessa molto parlare, e quindi ho iniziato a scrivere qualche anno fa. Ma cosa è un cortometraggio, un film? No, allora è nato come, adesso andiamo molto sul personale, andiamo molto sul personale, lo sottengo molto. No, vabbè, allora, io ho, nel senso, no, è nato, è nato, sarebbe nato per il teatro, in realtà. Cioè, allora, io ho avuto, ti dico, un bimbo di quattro anni, quando l'ho avuto io ho sofferto di una grandissima, gravissima depressione postpartum, molto cupa. E, mentre la stavo attraversando, mi sono sentita molto sola, perché poi è un argomento molto complesso, di cui si parla molto poco, c'è ancora, è un argomento tabù, poi ho fatto tanta terapia, ne sono uscita, ne sono uscita benissimo, e quando ne sono uscita, ho cominciato a cercare, anche a postare argomenti, cioè articoli su questo argomento, e mi sono resa conto, e mi arrivava un'email, di tante persone, soprattutto donne, che mi scrivevano, è successo anche a me, però mi vergogno, oppure è successo a mia sorella, ma non so come fare, tu come ne stai uscita, insomma, mi sono resa conto, che era un argomento, che toccava in maniera diversa, sia personalmente, che indirettamente, tantissime persone, e che era molto poco trattato, perché in Italia, tanto, ma non credo che sia una questione solo italiana, c'è una grande vergogna, della mamma, che non è felice in quel momento, per tutta una serie di ragioni, e quindi, ha cominciato a interessarmi molto, l'argomento della maternità, legata alla, chiamiamola salute mentale, alla mente, e questa cosa, quindi ho cominciato a scrivere, ho proprio buttato giù, a livello all'inizio, ti posso dire, di flusso di coscienza, sì, senza grandi pretese drammaturgiche, perché mi interesserebbe molto, sviluppare questo testo, e svilupparlo, comunque tenendo, sempre anche dell'ironia, perché mi ricordo, che anche nei miei periodi, più bui, e sono stati molto bui, comunque, c'era sempre, un fondo di ironia, riuscivo sempre, a sdrammatizzare, anche di cose, molto gravi, e mi interesserebbe tanto, poterne scrivere, quindi è lì, la cosa che mi piacerebbe in realtà, sarebbe proprio collaborare, in fase di scrittura, con una sceneggiatrice, e con una sceneggiatrice, che possa conoscere l'argomento, è bello, cioè è tosto, ma io credo molto nella funzione sociale del teatro, cioè, secondo me, è importante, era un po' la sua nascita, quella di una funzione sociale catartica, e mi interessa molto ancora adesso, cioè, non vorrei tornare in scena, non che l'intrattenimento puro sia sbagliato, perché non lo è, anzi, l'essere umano ha bisogno, però è legato all'educazione, però mi interesserebbe, quello che interessa di più a me, è di parlare di una serie di temi, anche in modo leggero, ma che comunque affrontino invece tematiche importanti, anzi, se ti faccio ridere è meglio, se ti faccio ridere parlando di suicidio, o di depressione, è meglio, però ti ci faccio anche riflettere, lei, l'abbiamo capito, fa anche lezioni di inglese, di acting in English, acting in English, perfetto, io so giusto una frase in inglese, vai, che non è esattamente, the cat is on the table, no, come mai sai questa frase? Questa qua non ho imparata, penso, quando stavo in Germania, in seconda superiore, ma è l'unica frase, che riesco a dire, ed è una frase eccezionale, perché d'altra parte, the point we have to start from, is the realization that, in realtà la puoi fittare, ed entri in qualsiasi conversazione, stai andando a fare, si dice al bar, si, si, siamo a dover darti le aria, no, ragazzi, perché comunque, si, si, certo, hai ragione, e poi basta, hai detto la tua, quindi, la trovo una frase eccezionale, per far finta, di sapere l'inglese, allora tu adesso, mi dici, guarda Ale, secondo me potresti fare, perché nei self-tapes c'è il cosiddetto tag casting, cioè, prendere un ruolo di un film, un pezzo di un film, che, con un personaggio, che all'incirca, possa rientrare, nelle tue caratteristiche fisiche, ok, ti impari quella scena, e la vai a registrare, ok, fondamentalmente, serve per, mostrare il materiale tuo, ok, di repertorio, che puoi avere a memoria, eccetera, in inglese è molto figo, è molto difficile sicuramente, perché c'è lo scoglio della lingua, allora, la mia proposta è la seguente, tu adesso dici, guarda Ale, secondo me, sì, anche che fa sempre bene dare feedback, dici, potresti provare a fare, questo ruolo, in questa scena, io, me la imparo, ok, poi ci rivediamo, va bene, e mi massacri, ok, mi piace, ci guarda Ale, qui sei un cane, qui fai cagare, e qui devi migliorare, che è esattamente, quello che dico è mia, è l'unica cosa, esattamente, no, va bene, allora, vediamo, allora, io ti vedrei, come, come lead, cioè, bel ragazzo, come protagonista, protagonista maschile, vedi, hai già detto lead, come ha detto bene, no, ti farei fare, cioè, ti vedrei, se dovessimo fare un typecasting, per tipologia, direi, tu puoi fare tranquillamente, il protagonista, hai una vena comica, molto sviluppata, mi piacerebbe, vederti fare una scena, di una commedia, romantica, da protagonista, ok, commedia romantica, da protagonista, scritta bene, una bella commedia, ok, devo dirti anche i titoli, adesso non ce li ho i titoli, però quella tipologia lì, mi piacerebbe vederti, in un love actually, o in una cosa del genere, se vi viene in mente a voi, ditecelo quanto prima, nell'arco dei prossimi, insomma, appena lo vedete, viene in mente un qualcosa, e fate una proposta, e vediamo insomma, che cosa proponete pure voi, cosa esce fuori, cattivissimi, tutti cattivissimi, e ci proveremo, ci proveremo, questa è una sera carina, quello che prema a me, la mia priorità, nelle mie classi, è che l'attore si senta, più libero possibile, di esprimersi al massimo, della sua potenzialità, in un'altra lingua, in una lingua che non è la tua, e che quindi magari, magari non sei appunto abituato, a masticare, ad avere in bocca, poi a seconda di quello, che viene richiesto, e del tuo livello, si fa un lavoro diverso, e si fa un lavoro molto ad hoc. C'è pure, la possibilità di, visto che siamo comunque, in questo periodo storico, che è deleterio e terrificante, per la nostra categoria, perché teatri chiusi, cinema chiusi, lockdown per tutti, e ci ritroviamo, a dover far conti con me stessi, a cercare di mantenere, un esercizio anche casalingo, ma che è possibile quotidiano, tu queste cose le fai in classe, ma c'è anche la possibilità, di farle online? Al momento, c'è sia la presenza, che l'online, fa tutto riferimento, per ora, a questo Mob Studios. Di? Di Valerio Morigi, no, di Valerio, sì, ciao Valerio, ciao Valerio, grazie. L'ho conosciuto anni fa, sul set a lui, eh sì, perché è anche attore, sì, sì. Quindi queste informazioni, comunque, si possono trovare, sul tuo profilo, Instagram. io sono pessima, su Instagram, allora, spiattori, analfabeti, digitali, ragazzi. Sì, terribile, terribile, poi io sono una di quelle che dice, proprio il giorno prima, al martedì, fai foto. Lo so, lo so, sono una capra. Allora, no, allora, sul mio profilo Instagram si trova qualcosa, nel senso che il corso ufficiale per ora è il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera, dalle sette e mezza alle nove e mezza, e appunto sono classi singole, in cui si preparano i provini, se uno ha un provino che vuole preparare, viene, lo prepariamo insieme, si preparano, se uno ha qualcosa su cui vuole lavorare, lo porta, ci lavoriamo insieme, oppure assegno io, assegno io, scene monologhe, si fanno delle improvvisazioni, si fa un lavoro anche molto mirato, a seconda proprio della persona, di quel di cui lui o lei ha bisogno, cioè, se ha un bisogno di un lavoro sull'accento, sulla pronuncia, si fa quello, se invece ha bisogno semplicemente di sciogliersi, perché magari l'inglese lo sa, ma è tanto che non lo parla, si sente un po' arrugginito, un po' in soggezione, allora facciamo un tipo di lavoro diverso. Queste cose le scopriremo, un po' esau curioso. Adesso vediamo a che livello sei tu. Pessimo. E quindi sì, le informazioni le trovate su un mio Instagram, poco, nel senso che io mi sveglio, che tanto apparirà adesso? Mi sveglio il martedì sera e dico, domani ho la classe, allora scrivo, faccio il post, oppure ancora più dettagliate, sul sito del Mob Studios. Che apparirà qua ora. Esatto. Speriamo. Esatto, esatto. Ottimo. È finito. È finito, grazie. È finito, grazie. Sì, non so se puoi dare un saluto, sicuramente insomma, ragazzi. Certo, grazie, grazie, grazie per essere, come si dice, per essere stati con noi, ti dice. Assolutamente, spero vi sia piaciuto e interessato il tutto, al solito, ragazzi, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale, ring the bell, quindi cliccate sulla campanellina, per farvi arrivare le notifiche, dei prossimi episodi che usciranno fuori, condividete il video, e commentate, fateci sapere ovviamente che cosa vi piace scoprire, se avete altre domande da fare, fatele sicuramente, siamo qui a rispondervi. Se volete venire, se volete divertirvi un po' con l'inglese, contattatemi, non scrivetemi su Instagram perché mi dimentico di rispondere su Instagram. No, insomma, ragazzi, altrimenti, poi glielo dico io, insomma, però insomma, contattate tranquillamente, è disponibile per insegnarvi a... Per insegnarvi? A pro... Per insegnarvi ad approfondire ulteriormente le vostre capacità di recitazione in lingua inglese, quindi io trovo una cosa veramente figa, detto da noi, utile. Utile, utile. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.